La Madonna è sempre vicina a noi e ci accompagna nel nostro cammino, lo ha detto il Papa, ai pellegrini provenienti dallo Sri Lanka, accompagnati dai Vescovi, per rendere omaggio alla Madonna al termine delle celebrazioni del 75esimo anniversario della consagrazione a lei della Chiesa nell'isola. Molte lacrime sono state versate negli ultimi anni, ha detto il Papa, a motivo del conflitto interno che ha provocato tante vittime ed ha causato tanti danni. Collaborare a superare le ferite del passato, ha insistito Papa Francesco, è l'unica strada che ci dà speranza di futuro, di sviluppo, di pace. Per questo vi assicuro che avete un posto particolare nella mia preghiera.